La scorsa settimana l'equip di chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, diretta dal dottor Francesco Larocca, ha eseguito su un paziente di 90 anni uno degli interventi più complessi della chirurgia oncologica addominale, vale a dire l'asportazione totale dello stomaco e della parte terminale dell'esofago. Il paziente, che aveva ripreso la normale alimentazione già da qualche giorno, è stato dimesso il 12 novembre scorso, a nove giorni dall'intervento chirurgico in ottime condizioni generali. L'anziano era affetto da un adenocarcinoma che aveva invaso la porzione terminale dell'esofago e la parte alta dello stomaco. Questo eccezionale risultato, si legge nella nota dell'ASL, è certamente frutto della collaborazione multidisciplinare e dell'impegno delle varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale e crediamo possa essere annoverato come un esempio di buona sanità auspicabile e possibile al sud e in Campania.